Dai danni del sisma a comune più bello d'Italia, grazie al prestigioso riconoscimento di Best Tourism Village, San Ginesio rappresenta l'Italia nel mondo. Il Borgo della Grande Bellezza vince il premio da parte dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, marche tutte da scoprire che sono arrivati grazie a San Ginesio fino a Madrid, che ha visto il comune del Maceratese diventare ufficialmente più bello d'Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.